Un nuovo regno del terrore arriva Terrifier 3. L'attesa è finita. Appassionati dell'orrore, gioite. Terrifier 3, l'attesissimo sequel, è arrivato per scatenare una nuova ondata di terrore. Preparatevi a uno spettacolo sanguinario come nessun altro, mentre Art the Clown torna sui nostri schermi. Terrifier 3 riprende da dove era rimasto il suo predecessore, promettendo uccisioni ancora più raccapriccianti e tormenti psicologici. Preparatevi a immergervi di nuovo nel mondo contorto creato dallo scrittore e regista Damien Leone. Questa volta la posta in gioco è più alta, lo spargimento di sangue più intenso e l'orrore indimenticabile. Questo non è solo un altro film slasher. Terrifier 3 è un'esperienza, una discesa senza sosta negli angoli più oscuri della depravazione umana. Non perdetevi l'evento cinematografico dell'anno. Preparatevi. Art the Clown è tornato. Svelando il carnevale della carneficina, la trama si infittisce. In questo terzo capitolo, il terrore si intensifica e le ombre si allungano. Terrifier 3 ci immerge di nuovo nel mondo caotico della contea di Miles, ancora scossa dalla precedente furia di Art the Clown. La cittadina, un tempo tranquilla, è ora un luogo di paura e sospetto. I dettagli sulla trama sono avvolti nel mistero, ma una cosa è certa. Nessuno è al sicuro. Ogni angolo nasconde un pericolo. Ogni ombra potrebbe celare il male. Sussurri e voci circolano sulla resurrezione di Art e sulla sua insaziabile sete di sangue. Le leggende urbane si mescolano alla realtà, creando un'atmosfera di terrore palpabile. Nuove vittime incroceranno il suo cammino, le loro vite cambiate per sempre dai suoi atti raccapriccianti. Ogni incontro con Art è un incontro con la morte. Qualcuno sfuggirà alla sua ira? La speranza sembra svanire mentre il clown si avvicina, implacabile e spietato. Leone ha accennato a un'esplorazione più profonda delle origini di Art. Chi era prima di diventare il mostro che conosciamo oggi? Cosa spinge questa forza del male apparentemente inarrestabile? Quali segreti si nascondono dietro quegli occhi malvagi? Terrifier 3. Promette di addentrarsi nella mente di un mostro, rivelando la terrificante verità dietro il sorriso dipinto. Ogni rivelazione sarà più scioccante della precedente. Preparatevi a un giro da brivido mozzafiato pieno di colpi di scena, svolte e rivelazioni scioccanti. Ogni momento sarà un'esperienza intensa e indimenticabile. Terrifier 3 non è per i deboli di cuore. Solo i più coraggiosi riusciranno a sopportare l'orrore che si dispiega davanti ai loro occhi. È un ritratto brutale e inflessibile dell'orrore che vi lascerà senza fiato. Ogni scena è un colpo al cuore, ogni immagine un incubo che si avvera. Art the Clown si risveglia un'icona raccapricciante. Con il suo volto pallido e il trucco grottesco, è una visione che incute terrore. Art the Clown è diventato un'icona horror, immediatamente riconoscibile con il suo sorriso sinistro e il silenzio inquietante. La sua figura è ormai sinonimo di paura e angoscia. La sua presenza terrificante ha affascinato il pubblico e ha cementato il suo posto nella storia dell'orrore. Ogni apparizione sullo schermo è un evento che lascia il segno. Ma cosa rende Art così avvincente? Forse è la sua imprevedibilità, la capacità di sorprendere e terrorizzare in modi inaspettati. Il modo in cui si crogiola nel caos e nel sadismo, trovando piacere nel dolore altrui, lo rende ancora più spaventoso. O forse è il suo silenzio inquietante, che la dice lunga sulla sua natura fredda e calcolatrice. Ogni suo gesto è studiato per massimizzare il terrore. In Terrifier 3, il personaggio di Art è destinato ad evolversi ulteriormente. Vedremo nuove sfaccettature della sua personalità malvagia. Assisteremo a nuove profondità della sua depravazione, con atti ancora più raccapriccianti e disturbanti. Ma anche, potenzialmente, a scorci del suo passato. Scopriremo cosa lo ha portato a diventare il mostro che è oggi. Cosa lo ha reso il mostro che è oggi? Quali eventi hanno plasmato la sua mente contorta? Una cosa è certa. Art the Clown è una forza da non sottovalutare. La sua presenza è una minaccia costante. È un promemoria del fatto che il male può assumere molte forme e, a volte, indossa un sorriso dipinto. Un sorriso che nasconde orrori indicibili. Sezione 4. I giocatori nel gioco distorto di Art, Terrifier 3, vanta un cast di talento pronto a dare vita agli orrori. A tornare nel franchise è David Howard Thornton, che offre un'altra interpretazione agghiacciante nei panni del silenzioso ma mortale Art the Clown. Al cast si uniscono volti nuovi e nomi familiari, i loro personaggi nel mirino del regno del terrore di Art. Le loro interpretazioni promettono di essere crude, emozionanti e assolutamente indimenticabili. Questi attori